buon pomeriggio cari amiche e cari amici buon pomeriggio mi invito anche oggi giorno di vento raramente a milano milano non è una città ventosa oggi invece c'è un vento che ha pulito l'aria di milano e c'è un cielo blu un cielo e un'atmosfera e un'aria pulitissima e limpidissima e anche oggi con queste particolari condizioni atmosferiche vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like e ricordate scaricate il link in descrizione oggi il giorno delle diciamo smentite diciamo delle notizie che sorgono e poi cadono una di queste riguarda un eventuale incontro tra il milano e il torino per buongiorno a volte si dice ma la smentita no 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 è proprio trapelata non c'è una cosa ufficiale ovviamente è proprio trapelata dal milano che l'eventuale letto incontro tra il milano e il torino per buongiorno non ci non è vero non 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 è vero non è vera questa notizia lo dice lo fa trapelare il milano quindi ho detto che buongiorno non verrà non lo so se verrà o no oggi non c'è stato nessun incontro tra il milano e buongiorno io continuo a dire che se arrivasse una bella cifra dalla premier league l'idea secondo me del torino e del giocatore è di andare proprio in premier league questo è quello che mi avevano fatto 20 mi avevano ventilato diverse settimane fa e poi bello dopo tanto arabbeggiare dopo tanto arabbeggiare quando vi dicevo guardate che il fondo pif non anzi non vi dicevo leggevo quello che ha scritto alessandro giudice nella vita non non si è tuttologi io meno di me meno di niente meno di nulla rispetto ad altri che sanno tutto allora però bisogna coltivare diciamo i contatti con chi sanno con quelli che hanno che conoscono con quelli che sanno con quelli che hanno rapporti che conoscono quegli ambienti e il mio riferimento in questo senso è alessandro giudice e alessandro giudice mi aveva aveva poi messo anche un x dicendo attenzione il fondo pif non è in questo momento interessato al calcio all'estero ha già il newcastle ma quindi toglietevi l'idea del fondo pif per il milan e ma sono andati a cavalcarlo per settimane mesi perché poi se tu dici che il fondo pif non è interessato al milan sei tu che non vuoi il fondo pif e come conte è meraviglioso quindi vi ho detto che pif non sarebbe arrivato non è arrivato voi seguite chi volete intanto ve l'ho detto e non arriva invescorp era uscita tre o quattro mesi fa ancora invescorp or oggi invescorp conferma il non interessamento non solo per il milan ma nemmeno per l'inter anzi in questo in questo comunicato in questo in questo se possiamo dire comunicati in questo testo diffuso c'è proprio scritto hanno dei dei dirigenti hanno dei management con redbird cardinale con steven zang e suning e noi non siamo interessati a investire né nel milan e nell'inter quindi adesso bisogna cambiare cambiare le prime pagine perché sono prime pagine che non esistono e non sono mai esistite adesso quindi anche invescorp oggi non ha no ha confermato il non interessamento però andiamo innanzitutto a parlare di campo e poi parliamo invece di nomi che possono interessare per il centrocampo perché come diceva luca di ieri e non è molto di moda non fa molto non è un bel biglietto da visita a partire dalla dal centrocampista ma al milan serve soprattutto uno o due centrocampisti questa è la base perché puoi far filtrare puoi far migliorare e migliorare il filtro davanti alla difesa e io ricordo quello che diceva tonali io sono in difficoltà mi guardo perdo l'avversario che arriva che si a darmi una mano e questo è una tipologia di giocatore del genere è quello che il milan forse per primo come primo acquisto deve cercare di portare a casa ma veniamo al campo ribadiamo che chiar non ci sarà che pobega mignan e ciao stanno bene la formazione sembra che sia l'orientamento di tenere il classico pulisici loftus chic e leao con davanti giru rendersi benasser gabbia con con tomori a destra calabria a sinistra teo insomma la formazione titolare di questi per questo periodo quelli più diciamo quelli più che hanno più le gambe rodati nelle gambe quelli di cui pioli si fida di più poi se voi mi dite che in questo momento non si può lasciare fuori ciucvueze posso essere anche d'accordo con voi però attenzione perché abbiamo lodato fino all'altro giorno pulisici sempre decisivo gol con lecce sempre gol molto belli poi dite no pulisici no oppure pulisici con ciucvueze leao e giru ma dato che abbiamo detto che il filtro di centrocampo è stato un problema anche nella partita di andata che il centrocampo della roma che pure avrà bove invece di cristante cristante un altro dei metronomi insieme a paredi se pellegrini adesso che tendiamo a il nostro orientamento la nostra voglia è quello di avere la tutti davanti e allora dobbiamo metterci d'accordo perché poi se abbiamo problemi come nel primo tempo con la roma o come a sassuolo perché nessuno filtra e poi non dobbiamo lamentarci quindi secondo me si va sulla formazione classica quella con loftusci con pulisic con leao e con giru leao che nella conferenza stampa di vigilia sarà lì insieme a pioli e veniamo adesso al centrocampista io metto nella mia ho letto di vie un giocatore del basilea renato veigo un nome del genere del 2003 io non credo che andiamo a prendere un giocatore del 2003 io non credo e al milan serve un giocatore esperto se serve un giocatore di carisma un giocatore che abbia giocato a eccellenti livelli e quindi dopo anche se ha avuto un'esperienza abbastanza negativa al Manchester United io so che fra le preferenze del Milan c'è Sofiane Amrabat questo è il giocatore che da quello che so piace al Milan escluderei Fofana e Turan perché mi hanno detto di cancellarli e vediamo che però serve un centrocampista eventualmente un fisicato giovane però serve un giocatore fatto e finito fatto e finito non nel senso che è finito ma un giocatore un giocatore di totale affidamento un giocatore dalla buona esperienza e dicevo dal buon carisma Amrabat potrebbe essere questa soluzione una soluzione che permetterebbe al centrocampo del Milan di avere un bel riferimento giocatore possente giocatore che catalizza l'azione quindi un giocatore che può certamente essere finalmente possa essere ritenuto il vice che si di una volta cioè possa essere ritenuto il giocatore che finalmente possa colmare la lacuna che ha lasciato Chessy. Il Milan ricordiamo il miglior Milan aveva Tonali, Chessy e Benasser Benasser è rimasto quindi bisogna trovare due centrocampisti anche di corsa con le caratteristiche di Tonali e di Chessy. Poi è ovviamente c'è Reinders ovviamente c'è Musa interessante ha avuto molta molta molti commenti hanno incuriosito molti i miei followers l'idea di Luca Didi di mettere Musa lui dietro la punta o meglio nel tridente avanzato per la gamba per l'inserimento per la buona classe per la buona personalità. Potrebbe essere una soluzione magari lo chiederemo in una delle prossime conferenze stampa Stefano Pioli. Pioli che continua a essere, l'abbiamo letto stamattina sui giornali, continua a essere il protagonista di questa partita che invece deve avere protagonista il Milan, la storia del Milan. Il Milan come club, il Milan come squadra, il Milan come blasone e invece del Milan che si va a giocare la semifinale di Europa League, la quarto di finale di Europa League per andare in semifinale, semifinale che il Milan in Coppa UEFA non ricordiamo sia mai riuscito ad arrivare. Ebbene ricordiamo le buone imprese in Coppa delle Coppe, ma Coppa UEFA non è stata mai la nostra e diciamo la Coppa, l'Europa League che praticamente è il nuovo nome della Coppa UEFA, ebbene non siamo mai riusciti ad arrivare lì. Questo deve essere il fulcro dei titoli, il fulcro delle nostre speranze, il fulcro dei nostri desideri. E invece bisogna, oggi si parla solamente se Pioli rimarrà, se sia l'ultima partita, se possa essere l'ultima partita di Pioli e non si discute d'altro. Io ricordo anche il derby Milan-Inter quando il Milan ha eliminato l'Inter nel 2003, però si diceva che poteva essere un crocevia per Ancelotti, pensate, e per Cooper, ma non in questa maniera. Quindi io sono più concentrato sulla partita che su Pioli, sul futuro di Pioli, perché il futuro di Pioli, il Pioli prima o poi lascerà il Milan, ma il Milan rimane. Quindi decideranno i dirigenti, ma quello che conta è che sugli albidori abbiamo il Milan che vinca, che possa vincere l'Europa League. È chiaro che il compito è difficile, ma il Milan a Roma ha sempre giocato delle grandi partite. È stata una buca nella vita, come direbbe Paul Valery, la partita dell'andata. Non abbiamo capito l'atteggiamento. No, è veramente una partita che possiamo definire misteriosa. Io spero di rivedere il Milan che a Roma ha vinto le ultime partite e soprattutto capiremo fin dall'inizio dei primi momenti della partita se il Milan entra sia con la testa giusta, con lo spirito giusto, con lo spirito del 22 che ha certamente non messo in campo nel match di andata contro la Roma. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.